Vogue Contest Come dovete fare per partecipare? Ovviamente è un concorso di make-up e dovrete realizzare un trucco ispirato alla moda, per cui trarre l'ispirazione da una sfilata, da un servizio fotografico, da una copertina di un giornale che vi è piaciuta particolarmente. Per partecipare avete tempo dalla mezzanotte del 14 marzo fino alla mezzanotte del 24 aprile. Il video andrà caricato su Youtube e poi dovrete andare su www.mgmagazine.it, vi metto il link nel box a fianco, per avvertire dell'avvenuto caricamento e per registrare tutti i dati necessari alla partecipazione. Le tre vincitrici saranno decretate da una giuria di eccezione che sarà composta appunto da tutte le ragazze che collaborano con MG Magazine, fra cui anche io. Sono molto contenta di questo concorso perché trovo che sia stimolante, creativo e in più i premi in palio penso che vi piaceranno molto, per cui passiamo subito ai premi, che sono tre premi della Sigma Make-up. Questo è il primo premio, questo è il secondo premio e questo è il terzo premio. Potrete presentare due tipologie di video, la prima è il classico video tutorial e la seconda invece è l'album fotografico che dovrà essere composto da un minimo di sei foto, due delle quali dovranno riguardare interamente il vostro volto. Dovrete anche inserire nel vostro video la foto a cui vi siete ispirate per il vostro trucco e per avere il regolamento dettagliato sott'occhio, per sapere bene tutte le regole per partecipare, mi raccomando andate appunto su www.mgmagazine.in.it che vi metto nel box informazioni qui accanto. Niente ragazze, io spero che partecipiate in tante, sono curiosissima di vedere i vostri trucchi, l'argomento è veramente molto vasto, non avete appunto che l'imbarazzo della scelta. Vi mando un bacione a tutte e saluto anche tutta la redazione di www.mgmagazine.it Alla prossima! Grazie a tutti!